Paura ieri mattina sul treno proveniente da Salerno e diretto a Paola. Poco dopo la partenza del convoglio della stazione di Capaccio, il capotreno si è imbattuto in un giovane privo di biglietto, al quale ha chiesto di regolarizzare la propria posizione, comunicandoli che diversamente sarebbe dovuto scendere alla fermata successiva. Nella stazione di Pestum, il viaggiatore, pretendendo di proseguire il viaggio senza pagare, ha iniziato ad urlare e ad inveire con vehemenza verso il capotreno e dopo essere sceso lo ha improvvisamente colpito con violenza, sferrandogli un pugno al volto e facendolo cadere a terra sulla banchina ferroviaria. Dopo neanche mezz'ora l'assalitore è giunto nella stazione di Battipaglia a bordo di un altro treno, senza immaginare che ad attenderlo c'erano gli stessi poliziotti ai quali era sfuggito poco prima, che lo hanno immediatamente fermato. Il giovane, un nigeriano classe 1997, è stato condotto negli uffici della Polfer a fatica, poiché nel tragitto ha continuato a dimenarsi e a strattonare i poliziotti. Riconosciuto anche dal capotreno, è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.